L'offerta didattica del Dipartimento di Scienze Aziendali si arricchisce quest'anno di tre novità. La prima riguarda il nuovo corso di laurea magistrale in Accounting, Governance e Sustainability, che già nel titolo richiama le tre parole chiave attraverso cui il corso si sviluppa. L'Accounting, la Contabilità, la Governance delle imprese e la Sostenibilità. Il corso è rivolto a quegli studenti che vogliono intraprendere una carriera come libero professionista, consulente, direttore amministrativo e finanziario e responsabile di sostenibilità in piccole, medie e grandi aziende. Offre un double degree con l'Università di Dandè. La seconda novità riguarda il corso di laurea magistrale in International Management and Marketing. Anche in questo caso è offerto un double degree con l'Università di Stoccarla e il corso si rivolge a quegli studenti che intendono intraprendere una carriera come manager in imprese internazionali o diventare esperti di marketing. La terza novità riguarda il curriculum di Investment, Banking and Finance all'interno della laurea interdipartimentale di Economics and Finance. Questo curriculum è rivolto in particolare a quegli studenti che vogliono intraprendere una carriera negli intermediari finanziari tradizionali, ma anche nel mondo delle investment banks, della gestione del risparmio e della finanza d'impresa. Infine, il dottorato in Management, Accounting and Finance costituisce l'ultima novità da un punto di vista dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Aziendali per l'anno a venire.